Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi, come avete letto dal titolo, giocheremo a Fortnite Un gioco che sicuramente non ha bisogno di presentazioni Sto lavorando per ricevere appunto il codice creatore Che dopo potreste usare per supportare il mio canale Usandolo Ci sto lavorando e appena ve lo daranno ve lo comunicherò Sia qui su Youtube sia su Instagram ovviamente Quindi seguitemi anche su Instagram, link in descrizione Ora siamo pronti per giocare Volevo giocare in creativa per giocare a qualche mappa Visto che non penso di riuscire a portarvi delle gran vittorie reali e cose del genere Vi voglio portare come primo video una partita in creativa Con una mappa appunto qui su Ok, allora vediamo ora che siamo in creativa Cosa c'è? Facciamo il memory quiz Provo il memory quiz Provo a rispondere alle domande Ok, proviamo a fare il memory quiz Ok, andiamo Ok Ok, qua c'è un... Ah, non posso entrare Divano là, c'è la casa Qui c'è un armato per terra Ok, vai Andiamo Andiamo How many black so far was in there? Oh cazzo E quanti divani neri c'erano? Non sono mai due Non ce n'erano due 1, 2, 3 3, 3 Ah, 3 Ah, 3 Sono 3 Accidenti, non avevo visti 3, 3, 3 Perfetto Quante finestre c'è? Ma dai, che pallet 3 cose che non ho guardato Finestre 5, 2, 3, 164 È stronzo Dovrei controllare meglio Dovrei controllare meglio Che mi chiama Mentre registro Accidenti 1, 2 Finestre 3 cose Ok Va bene Beh, 3 Che l'avamo già fatto Quindi ci sono due finestre Ok C'era qualche attrezzo della cucina? Sì, no Vabbè, io vorrei andare Io ci provo Voglio andare qua Yes or no? Bastardo No Oh, bella Secondo livello Allora Guarda, secondo me ci sono Ti chiedo Quante macchine della polizia ci sono Quante macchine blu ci sono 3 3 Comunque nel caso Orologio segna le 10 So che questo Provedo che questo Me lo chiede sicuro Che ora segna Eeeh Boh, basta Devo portare Andiamo, dai Mi papà classico Lo sapevo Era prevedibilissimo Erano le 10 Va bene Va bene Lo sto ritenendo Food truck Ah, c'è scritto Fork life Mamma mia Ma che memoria Quante Quante finestre blu c'erano Nella costruzione blu Secondo me 5 Mamma mia Mamma mia Ma che pro Ma che pro Ma che livello 2 Così Scioltezza Vai, livello 3 Ok Linea C Linea B Linea A 2 macchina 2 macchina da polizia Un corso di gelato E una macchina normale Linea B Un furgone Furgoncino Una macchina Una macchina Una macchina da polizia Un autobus Ok, vediamo Vediamo cosa dice Which lines has a boss La linea più alta La linea C Ok Quante macchina c'erano La linea A Ce ne erano Una della polizia Secondo me Ce ne erano Ah, cazzo Lo posso ridere tutti Somma 5 Se non mi ricordo male Cazzo Vediamo 5 Quante sono le macchine Linea A 1, 2, 3, 4 Ah, fanculo Sono 4 Carino però Dai Questo Memory quiz Una bella idea 4 Un'ultima domanda Quale linea Ha una Macchina Una rosa Secondo me È la linea B No, la linea C Mi sa di no Cazzo Le entrambe Ah, cazzo Le entrambe Le entrambe Vediamo che Le entrambe Infatti Eh, la mia memoria Si vede che è un po' Così Così Quattro Quattro Qua entrambe Eh, ho sbagliato Vabbè Eh, non stiamo andando malissimo Livello 4 Vai, vediamo cosa c'è Ok, c'è un C'è un camper C'è un camper Rosa C'è un barbecue Due cespuglietti Ci sono tre barche Due pesci Sono pesci quelli Troppo di pesci Ah, una canoa Ah, quattro barche Quattro barche ci sono Quattro barche blu Ok, vai Spider web Quante Quante Eh, infatti Ce ne sono quattro Le ho contate apposta Me ne immaginavo Eh, sì Ci sono dei pesci Nel lago Sì Mamma mia Questo facile 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 E' un quarto fatto E diventa un po' più Oh Porca puttana Un po' più difficile Cazzo mi chiedo adesso Quanti colori ci sono Ora sono Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Gialli Uno, due, tre Quattro, cinque Blu Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Sette Rossi Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Sette Marroni No, marroni Eh, un, due, tre Quattro Viola Cinque Viola Eh, porca troia Cosa cazzo mi chiede? Ma faccio ricordarmeli Eh, quanti cubi blu ci sono? Eh, bravo Cinque Secondo me Infatti Perfetto Quanti cubi blu ci sono? Eh, sette erano Se non mi ricordo male Infatti Mamma mia Mamma mia Dai, dai Quanti cubi rossi ci sono? Eh, sei Se non ricordo male No Cazzo Cubi rossi Accidenti Quanti erano? Uno, due, tre Quattro, cinque Sei Sette Cazzo Sette Eh, ho quasi fatto tutto giusto Accidenti Peccato 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 Sì, a voi piace questo Questa mappa Non è male Ho detto sette Poi se vi piacciono ovviamente Delle mappe in creativa Ve le posso portare altre Ce ne sono A bizzeffe Allora Qua ci sono Uno, due, tre Tre stronzi C'è scritto là Se lo chiede sicuro Megguffins Ok Qui ci sono dei quaderni per terra Ci sono dei mucchi C'è un tot di libreria C'è una videocamera Eh, sì Va bene Dai, andiamo C'è una videocamera Sì Which line has the most books on the ground? Eh C'è un più Left Right Ok Quanti quaderni ci sono sul tavolo? Che cazzo ne so Tre No, quattro Diciamo quattro No, sono da tre No, quattro Ok, perfetto Guarda qua Un po' di culo Ma va bene Settimo livello Sì Bene Perfetto Cosa cazzo è sta roba? Uno, due Tre Quattro Quattro macchine No Uno, due Tre Uno, due Tre Quattro Cinque Sei Uno, due Tre Quattro Cinque Sei Macchine Uno, due Tre Barche Uno, due Tre Barche Un container Viola Uno, due Container Uno, due Tre Quattro Cinque Sei Cosi di legno Ok Prodiciamo Andare Quante cose ci sono Che Di legno Che Galligiano Cazzo Si floating è che vabbè, avete capito erano 4 se non ho visto male erano 6 perfetto erano 6 e questo è un po' piuttosto un po' piuttosto questo qua si, un po' piuttosto si sono 6 con l'altro 4, sono troppo poche eh, questo è un pezzo ci sono alberi fluttuanti non ho visto gli alberi fluttuanti quante macchine da polizia ci sono? se l'ho visto male, sono 3 l'ho visto bene infatti oh, bella abbiamo finito opium memory got refreshed by this map opium enjoy memory quiz ecco che musichetta bella dai, memory quiz creata by sedo era carina dai mi è piaciuta mi è piaciuta vuol dire una bella idea ho avuto ho avuto una bella idea dai è bella mi è piaciuta a voi mi è piaciuta fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere anche se volete vedere altri video su Fortnite di modalità creativa qualche altra mappa che mi potete consigliare voi magari ne guardo un po' io se ce ne sono di belle aspettate il codice creatore che arriverà poi vi comunicherò io quando se volete potete usarlo per supportarmi e niente noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao